Ancora per tutto il mese di febbraio sarà possibile per i contribuenti siciliani pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni e interessi. Lo ha stabilito la proroga delle agevolazioni introdotte dalla norma straccia bollo, l'articolo 28 della legge regionale 16 dello scorso agosto, proposta dall'assessorato regionale dell'economia e votata dall'Arsa a dicembre. Da una parte proseguiamo nel risanamento finanziario della regione, dice il presidente Renato Schifani. Dall'altra diamo seguito a una visione finalmente dialogante del rapporto fra cittadini e fiscalità locale, a beneficio di tutti coloro che intendono mettersi in regola. Grazie alla regolarizzazione agevolata delle tasse automobilistiche, ricorda l'assessore all'economia Marco Falcone, la regione siciliana ha potuto registrare nel trimestre finale del 2022 un aumento di oltre il 200% delle entrate rispetto all'anno precedente. Abbiamo recuperato molta evasione, senza però vessare i cittadini con sanzioni a gravi economici, che stridono con l'attuale fase di crisi economica. Il governo Schifani ha voluto dunque estendere una misura gradita ai contribuenti, ma anche utile alle casse della regione. Possono suffruire dell'agevolazione straccia bollo le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte al ruolo per gli anni di imbosta 2016, 2017, 2018 e 2019 e le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni di imbosta 2020 e 2021, per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite la riscossione ordinaria. Possono accedere al beneficio anche coloro che richiedono la rateizzazione del proprio debito superiore a 2.000 euro per anno di imbosta maturato nel periodo 2016-2019. Un canale di pagamento apposito è stato attivato dalla regione presso la delegazione ACI e le agenzie di pratica auto autorizzate alle nuove province siciliane. Per aderire alla regolarizzazione straccia bollo, il contribuente senza necessità di istanza dovrà infatti effettuare entro il 28 febbraio 2023 il pagamento esclusivamente presso tali sedi, specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare.